Ragazzi, ciao a tutti e benvenuti all'interno di questo mio nuovo video tutorial. All'interno di questo video sarà un video abbastanza veloce perché vi farò vedere come potete andare a spostare o meglio a riordinare le categorie o le tassonomie insomma personalizzate che avete creato all'interno del vostro sito WordPress o insomma all'interno dei vostri progetti online. Comunque ragazzi, se questa è la prima volta che vedete uno dei miei video tutorial, io mi chiamo Roberto Marchesini e sono il fondatore di assistenza WordPress, ovvero un sito web dove io insieme al mio team aiutiamo soprattutto aziende e professionisti a crearsi e gestirsi il proprio sito in WordPress, quindi siamo altamente esperti insomma su questa piattaforma. Noi naturalmente lavorando proprio sui siti dei nostri clienti abbiamo già avuto modo di utilizzare il plugin che vi faccio vedere all'interno di questo video. Come detto è un semplice plugin disponibile in modo assolutamente gratuito che vi permette semplicemente di andare a riordinare le tassonomie e quindi magari le categorie che avete creato all'interno del vostro sito. Ma come detto vi permette anche di riordinare tassonomie personalizzate che avete creato all'interno del sito. Tra parentesi all'interno del video cercherò anche di farvi vedere molto velocemente magari come potete andare a creare delle tassonomie personalizzate all'interno dei vostri progetti online perché questo sono sicuro che vi potrà tornare di aiuto adesso appunto in futuro per i vostri siti WordPress. Quindi detto questo dopo questa lunga introduzione adesso passiamo proprio sul mio pc che a me piace fare dei tutorial molto molto sul pratico. Quindi passiamo alla parte pratica così vi vado a presentare il plugin di oggi e poi lo vado ad installare su una mia installazione demo così vi faccio vedere come potete andarlo ad utilizzare all'interno del vostro sito. Quindi passiamo subito alla parte pratica del video. Ok ragazzi allora per il video di oggi ho preparato sempre questo mio sito demo che utilizzo per realizzare questi video tutorial. Ad ogni modo per andare a riordinare le categorie del vostro sito WordPress o delle tassonomie che vi siete andati magari a creare in precedenza andremo ad utilizzare questo plugin che è disponibile in modo completamente gratuito qui sulla directory ufficiale di WordPress. Ora il plugin è solo diciamo la versione 1.5. Ad ogni modo questo plugin semplicemente vi permette di andare appunto a riordinare le categorie, i tag e le altre tassonomie personalizzate che avete creato magari all'interno del vostro sito. Quindi diciamo che non ha tantissime funzionalità aggiuntive e per quello che vi permette di fare non ha bisogno insomma di essere aggiornato spesso questo plugin. Ad ogni modo come vedete è utilizzato su oltre mezzo milione di installazioni WordPress e anche per quanto riguarda le recensioni hanno ricevuto praticamente quasi tutte recensioni a 5 stelle. Qui se vado a scolvere la pagina anche qui come vedete semplicemente hanno messo due immagini per farvi vedere come funziona diciamo lo spostamento delle categorie o dei tag all'interno appunto del vostro sito. Ora semplicemente ragazzi vado ad installare questo plugin all'interno del mio sito demo così vi faccio vedere come funziona. Quindi vado a copiarmi proprio il nome di questo plugin, vado naturalmente sul back end di WordPress, andiamo su plugin aggiungi nuovo e qui naturalmente sulla barra di ricerca andiamo a ricercare il nostro plugin e lo andiamo ad installare e ad attivare su questo mio sito demo. Così vi faccio vedere insomma come funziona il riordino delle tassonomie o delle categorie insomma all'interno del vostro sito. Ora ecco che il plugin è stato attivato correttamente. Ci tengo a precisare che all'interno di questo sito se vado qui su pagina come vedete anche su pagina adesso ho appunto a disposizione le categorie. Questo perché sono andato a crearmi io personalmente una tassonomia personalizzata andando ad utilizzare questo plugin. Quindi custom post type UI che praticamente vi permette appunto di andare a creare delle tassonomie personalizzate. Vi faccio vedere super velocemente. Se vado sull'impostazione di questo plugin e vado su aggiungi modifica tassonomia, tra parentesi questo plugin è un plugin completamente gratuito, come slug ad esempio metto prova, etichetta qui al plurale metto prove ovviamente e al singolare prova. E voglio andare a collegare questa tassonomia sempre mettiamo caso sulla tassonomia pagine, quindi sulla categoria chiamiamola così pagine. Quindi vogliamo andare ad aggiungere la tassonomia prova qui dentro praticamente dove troviamo la tassonomia categorie. Quindi vado a selezionare collega al tipo di articolo pagine e andiamo ad aggiungere la nostra tassonomia. E adesso praticamente se andiamo sulle pagine, quindi pagine, ecco che come vedete abbiamo anche la tassonomia prove e qui dentro ovviamente potete andare a creare altre tassonomie, come potete fare per quanto riguarda le varie categorie. Ora vi ho fatto vedere questo perché molto probabilmente vi tornerà di grande aiuto per i vostri progetti online. Ma tornando all'argomento di oggi, che comunque è sempre correlato alle tassonomie, adesso praticamente che ho installato il plugin, come potete vedere troviamo appunto la voce Ordine della tassonomia. Quindi andiamo a cliccare su questa voce e qui praticamente come vedete trovate le tassonomie che sono senza categoria e queste due diciamo categorie che ho creato in precedenza, giusto per farvi vedere. Quindi adesso se vado qui su categorie e mi vado ad aprire il link delle categorie qui in una nuova scheda, come potete vedere ecco qua le nostre categorie che sono riordinate proprio in questo modo. Mettiamo caso che voglio spostare senza categoria, la voglio spostare come ultima voce, vado a cliccare su aggiornare e semplicemente ragazzi se adesso vado a ricaricare la pagina, vedete che la categoria è stata spostata qui come ultima voce. Quindi andare a spostare le categorie e i tag e così via è davvero molto semplice con questo fantastico plugin. È un plugin gratuito che penso insomma vi possa tornare di aiuto. E tra parentesi state tranquilli che è un plugin davvero molto molto semplice, quindi il codice non è che sia proprio così grande e quindi non va ad appesantire più di tanto il vostro sito WordPress. E che naturalmente questa è una gran cosa per quanto riguarda la velocità del vostro sito. Ora ragazzi se siete andati a crearvi anche voi delle tassonomie personalizzate all'interno del vostro sito, se ora sposto il mouse qui ad esempio su pagine dove ho creato queste due tassonomie personalizzate, come vedete non abbiamo adesso la possibilità di andare a riordinare le tassonomie, mentre per quanto riguarda gli articoli ovviamente sì come avete visto. Quindi per diciamo aggirare questo problema dovete andare qui sulle impostazioni del plugin che avete utilizzato per andare ad aggiungere le tassonomie, andate su aggiungi modifica tassonomie e praticamente andate qui su modifica tassonomie, qui andate a selezionare la tassonomia ad esempio categorie che ho aggiunto sotto alla tassonomia pagine, quindi adesso vi faccio vedere, pagine, categorie, scorrete la pagina e praticamente andate a trovare l'impostazione che vi dice gerarchico. Questa impostazione in sostanza vi permette di andare a creare un rapporto genitore figlio tra appunto le tassonomie, qui dovete andare a mettere vero e andate a salvare le modifiche cliccando su salva la tassonomia e adesso vedrete che una volta che avete abilitato questa cosa se andiamo su pagine come potete vedere adesso troviamo anche la voce ordine della tassonomia che naturalmente qui ci permette di andare a riordinare le tassonomie. Ora in questo caso ovviamente non c'è niente all'interno della tassonomia categoria, quindi semplicemente adesso vado a creare diciamo due categorie, quindi semplicemente prova e test in questo modo. Ora se vado su ordine della tassonomia naturalmente ecco qua le nostre due categorie, quindi ovviamente vi faccio vedere molto velocemente se andiamo, scusatemi, a vedere qui le categorie. Ecco che come vedete troviamo la voce prova all'inizio e test come ultima, quindi se spostiamo prova come ultima voce andiamo ad aggiornare diciamo l'ordine delle categorie e vado a ricaricare la pagina. Ecco che come vedete anche qui adesso le categorie sono state riordinate con successo, quindi mi raccomando andate a mettere qui la spunta altrimenti non potete andare a riordinare le tassonomie personalizzate che vi siete andati a creare in precedenza utilizzando magari il plugin che vi ho fatto vedere all'interno di questo video. Ok ragazzi questo è stato un video abbastanza veloce, sono sicuro che il plugin di oggi comunque vi tornerà di grande aiuto sia quello per andare a riordinare le tassonomie ma anche quello per andare proprio a creare delle tassonomie personalizzate all'interno del vostro sito. Detto questo se vi sono stato di aiuto lasciatemi sempre un bel mi piace sotto a questo video così mi aiutate a raggiungere sempre più persone con i miei video tutorial che penso insomma gli potranno tornare di aiuto per i loro progetti online e se non lo avete ancora fatto ragazzi sentitevi liberi di iscrivervi anche al nostro canale youtube oppure di mettere sempre un bel mi piace sulla nostra pagina facebook. Naturalmente ci trovate sempre come assistenza WP. Detto questo se avete ancora dubbi o domande su quello spiegato all'interno di questo video potete sempre scrivermi un vostro commento sul box che trovate sempre sotto al video sappiate che io e il mio team leggiamo sempre tutti i commenti e facciamo il possibile per rispondere a tutti. Detto questo grazie mille per aver visto questo mio video tutorial se andate all'interno del nostro canale youtube ancora trovate oltre 300 video che ho realizzato io personalmente in modo completamente gratuito non mi resta altro che salutarvi ma noi naturalmente ci vediamo all'interno del prossimo tutorial.